boxari eccomi sono tornato il vostro mob ma che fine ha fatto il vostro mob passato un mese anche più senza video del vostro master of boxari ragazzi ma cosa fa questo canale chiude alla deriva ma che è successo xbox zone ragazzi ragazzi state tranquilli non me ne sono andato perché se non non avete capito le mie intenzioni di mob io voglio creare la più grande community boxara su youtube non me ne vado ma il fatto è che voi siete autosufficienti ragazzi lo so che vi manco ma voi potete camminare anche da soli guardate l'xbox zone official club ciccio broker che condividono le immagini condividono esperienze poi c'è il canale disco c'è telegram ragazzi voi siete tranquilli perché siete boxari siete autosufficienti non avete preso fifa 23 vero boxari perché guardate che cosa arrivato sul game pass fifa 23 red full che ha ricevuto una shit storm epocale abbiamo questa microsoft un po sotto accusa questa sony che colpisce sotto la cintura questa acquisizione con activision che non si sa se si fa non si farà questo phil spencer che si presenta tipo gandhi tante cose da parlare ma non in questo video perché questo video sarà a scopo di tutorial perché è il perentore aggiornamento di delle series probabilmente anche di xbox one allora teniamo un attimo al nostro bellissimo ma da sport all'aggiornamento è di due settimane fa ma non avevo lasciato più video no 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 non sono sicurissimo che abbiate capito che cosa è cambiato in questo aggiornamento secondo me nemmeno microsoft alle idee proprio chiarissime comunque in buona sostanza hanno modificato per l'ennesima volta è incredibile il sistema di risparmio energetico che raggiungete ancora una volta impostazioni generali opzioni risparmio energia con l'ultimo aggiornamento ok se avete la consospetta da qualche settimana accendetela e vi si aggiornerà bene vedete un po lo stesso scenario di prima ci sono due modalità la modalità arresto cioè risparmio energetico e sospensione con la sospensione consuma di più consuma intorno ai 10 15 watt in risparmio energetico mezzo watt quindi una grossa differenza e la differenza qual è che in sospensione la console non si spegne completamente quindi potete vedete entra in sospensione anziché arrestarsi la console usa più energia supporta la riattivazione della console da remoto la console si avvia più velocemente quindi se la spegnete così si accende immediatamente ma non è che i tempi di boot siano così lunghi con la modalità arresto la console si arresta supporta gli aggiornamenti automatici di console giochi quindi potete comunque scaricare gli aggiornamenti dei giochi con questa modalità anche se la console si spegne perché c'è ancora attività su usb supporta la funzionalità remote e riduce il consumo di energia di oltre 20 volte quando è spenta e tutte queste proporzioni articolate di microsoft in più c'è la famosa celeberrima famigerata non celeberrima famigerata senz'altro terza opzione di spegnimento totale che arresta ora questa è uno spegnimento separato dagli altri due che vi ho mostrato in questo modo spegnete completamente la console e quindi non potrete nemmeno scaricare gli aggiornamenti dei giochi la console si spegne completamente ma rimangono attive le porte usb ricordate questo che se vedete il vostro hard disk che frulla e questo è perché le porte usb sono sempre alimentate e questo è così è progettata xbox quindi bisogna che il vostro hard disk esterno se lo collegate sia in grado di andare in spegnimento automatico quasi tutti gli hard disk lo fanno quelli meccanici non tutti quegli ssd credo tutti dopo un po vanno in spegnimento automatico quindi a questo punto si c'è attività della della porta usb ma l'hard disk sostanzialmente si spegne altrimenti staccate l'hard disk della porta usb e festa finita o se no c'è il quarto segretissimo e tecnicissimo modalità di spegnimento che consiste nello staccare l'interruttore della vostra ciabatta moltifresa o direttamente dal muro questo non lo dice a nessuno è un segreto di xbox zone ok e quindi mi direte caro mb ma dove la novità ce l'hai già detto tutte queste cose sì in effetti è vero la novità è personalizza le opzioni risparmio energia una nuova funzione che funziona soltanto se voi selezionate sospensione non funziona con arresto ok solo per la sospensione allora potrete smanettare su questa opzione che vi permette aiuto mi sono perso allora senza sospensione ok perfetto vedete che io poi voglio spiegarvi cose allora questo menu c'era anche prima però la novità è qui regola gli orari di attività ripeto funziona solo in sospensione regola gli orari di attività a questo punto avete tre voci automaticamente manualmente e sempre attiva allora che significa che selezionate manualmente potete impostare un'attività avvio orario di attività e termine orario di attività nel quale la console andrà in modalità arresto cioè questo da sospensione questo perché loro hanno pensato in effetti che se voi utilizzate la modalità sospensione la console consumerà sempre 15 watt per tutto il giorno quindi vi danno la possibilità di impostare tipo la notte passare in modalità arresto e il giorno in sospensione senza che voi dobbiate più toccare niente allora se vi interessa così andate in orari attività impostate una un'ora di inizio e un'ora di conclusione quindi l'inizio può essere a mezzanotte e la conclusione può essere boh all'otto di mattina automaticamente con questa opzione sarà la console in base alle vostre abitudini a impostare a svuoppare dalla modalità sospensione a quella arresto non so bene i parametri con il quale lo decide però in buona sostanza la console cercherà di capire le ore di orari in cui la utilizzate di più e in questi orari passare all'arresto l'ultima invece sempre attiva se le se selezionate la voce sempre attiva la console andrà sempre e comunque in sospensione è questo perché se mettete l'automatica allora è in certi orari del giorno la console automaticamente passerà arresto se impostate voi gli orari ci va quando lo volete voi altrimenti potrebbe esserci il terzo scenario che volete sempre che la console si spenga in sospensione e allora andate a selezionare sempre attiva ok quindi si hanno aggiunto un una nuova opzione interessante perché può essere utile impostare la console in arresto per la notte sospensione per il giorno però i watt consumati durante il giorno rimarranno sempre un po tali quindi così fate vobis il discorso è che manca ancora incredibilmente la possibilità di passare alle modalità di spegnimento direttamente dall xbox guide così come lo spegnimento totale della console perché come mi avete chiesto giustamente se voi richiamate l' xbox guide e andate su spegni con sono vi fa lo spegnimento completo ma vi applica uno dei due profili che avete già deciso ho programmato l'unico modo per spegnere completamente definitivamente la console al netto delle porte usb alimentate e arresta ora questo è l'unico modo per spegnere completamente la console infatti non a caso vi dice spegnere completamente la xbox quindi ma si si migliora ma ancora non si arriva a quella sorta di zenith che sarebbe anche semplice ripeto microsoft ma cosa fai ma vuoi mettere nell xbox guide la possibilità di spegnere completamente la console senza che io debba fare questa operazione e senza che possa avere pensieri un po maliziosi cioè che tu voglia che io vada fin qua giù e che magari qualcuno non ci va perché gli fa fatica così magari la console sta sempre in modalità sospensione insomma vogliamo rendere davvero green queste console oppure no perché sennò la prima cosa da fare era mettere lo spegnimento completo nell' xbox guide così la gente la spegne per per definitivamente e si consuma meno ragazzi ma che fanno gli ingegneri ma fanno tutto questo brainstorming e le cose più semplici ancora non le risolvono e vabbè sarebbe un mondo troppo bello altrimenti però le cose stanno così con il nuovo update avrete quella nuova opzione per programmare le due modalità bene ragazzi fatemi sapere anche oltre a darmi il benvenuto e ben ritrovato fatemi sapere cosa ne pensate attivate il campanello per essere sempre informati sul nuovo video e iscrivetevi al canale e questo è solo all'inizio perché c'è da parlare di un sacco di cose che vi ho accennato a inizio video con calma ne parleremo per ora un saluto ciao